Ci troviamo in Vicolo del Guazzo a Piacenza e guardate il pioppo alle mie spalle, un esemplare molto grande, alto quasi 20 metri, fra due giorni non ci sarà più. Infatti il Comune di Piacenza ha deciso di abbatterlo e alla nostra redazione sono arrivate alcune segnalazioni di lamentele perché si tratta di un pioppo storico. Come vedete sono arrivate le transenne per delimitare l'area e giovedì verrà abbattuto. Nel comunicato inviato dal Comune si legge la pianta come certificato dalla perizia agronomica ha evidenziato gravi rischi di instabilità che mettono in pericolo l'incolumità dei passanti a causa della marcescenza del colletto radicale per oltre il 55%. Il pioppo è malato e dunque va abbattuto. Al suo posto il Comune fa sapere che verranno piantati tre nuovi arbusti durante il periodo invernale nella vicina area verde. Grazie.